Buonasera, buonasera, benvenuti alla notte della Tammora, sono 15 anni e quindi sul filo del miracolo ci stiamo riuscendo e non è facile, voi lo sapete meglio di me. Stasera inizieremo con un'apparenza che non è mai stata una notte della Tammora, per me è un grande vanto, chi mi parla è Carlo Fajero, sono io e quindi ho convinto il signore qui che è figlio di un grande, un grande sacerdone della tradizione, di Soma Vesuviano, praticamente dice Nara Albagna, era un po' il leader della montagna. Pensate che quando sono arrivati i grandi antropologi tipo per esempio Anna Lomax, o stesso De Simone, si è nutrito di tutte le esperienze fatte da Nara Albagna. Lui è il figlio e quindi ho convinto loro che sono portati dalla Madonna di Castello. Siamo riusciti a portare qui a Napoli perché il signore qua è un deloto, è la Madonna di Pieticotta e perché noi siamo in occasione della Madonna di Pieticotta inizieremo con una bellissima Tammoriata, proprio prima della Tammoriata Zio Sabbatino vuole fare un saluto. Arrivederci!